già le conosco ma sicuramente ci sarà qualche aneddoto che migliorerà la mia cultura sportiva mi ha detto Tiziano che chiederai un'altra copia per lui perché questo già me l'ha regalato e ti sono grato. Grazie Wisp, grazie Presidente Pesce, rivedo amici di qualche battaglia, confronto, dialogo, affetto, rispetto, ovviamente un amico Massimo, un amico Vincenzo, come altre persone che da sempre fanno parte integrante del nostro mondo. Complimenti a Pietro Barbieri perché credo che sia la persona giusta, a questo signore che è il Presidente della Federazione Italiana Paralimpica, valori, i complimenti, forse sono esauriti per quello che è riuscito a fare da Tokyo a Pechino, il tuo Presidente Pancalli ogni volta mi prende in giro e mi dice abbiamo vinto qualche medaglia di più, sì, nell'invernale non è proprio così, anzi tutt'altro e poi gli ho detto leva valori al tuo mondo e vedi dove finisce, lui ogni volta lì si mette a ridere, ho detto questo veramente chapeau. Caro Ministro, caro Andrea, mi hanno fatto piacere moltissimo queste tue ultime parole, le tue considerazioni, sì credo che ci sono anche dei giornalisti che mi conoscono, penso che sono temi che si capisce che non bleffo, che ce le ho sotto la pelle, che le ho sempre maneggiati, trattati, curati, seguiti, nei limiti di quello che può fare una persona nel mio ruolo, prima da dirigente sportivo, di qualche iniziativa, di qualche ASD, di qualche comitato organizzatore, adesso del Comitato Olimpico. Brava WISP, brava WISP, innanzitutto per vincere questo progetto, però insomma dirà che Andrea ha una storia familiare e personale, sicuramente più vicina, per certi versi più incline della mia, però insomma la WISP era il porto, lo sbocco naturale di questo progetto pensato dal Ministero a cui faccio i complimenti, prima per questa sua specificità, peculiarità, non voglio mancare di rispetto ad altri colleghi degli enti di promozioni, però insomma c'è un percorso anche e soprattutto di distribuzione capillare nel territorio, che peraltro molto ci accompagna con il Comitato Olimpico, che vi mette in condizione di essere diciamo i partner ideali, di mettere a terra, perché poi sai, i progetti è bello presentarli, è bello avere un dossier che ti porta a giudicarli e poi vanno messi a terra, d'altronde come il Ministro Orlando sa molto bene, la legge può essere molto buona, se gli aspetti pratici e i decreti attuativi non corrispondono diciamo a quello che sono le esigenze, in realtà succede un disastro. E invece questo è proprio il vostro DNA, mi piace l'idea della mano, per tanti motivi, mi piace l'idea ovviamente di aver convolto diciamo un elemento ancora più di caratterizzazione che il mondo paralimpico all'interno di questa mano, all'interno delle singole discipline e c'è una cosa che mi fa molto riflettere, cioè qui c'è anche una dinamica se tu vuoi oltre i confini, c'è il coinvolgimento dell'OMS, c'è il discorso ovviamente dei piani di coesione 21-27, c'è il tema di Agenda 2030 e qui mi sposo in pieno col mio mondo e cioè il mio mondo è Agenda 2020, vedo Valerio Piccioni, Gazzetta dello Sport, sa perfettamente oltre Fabrizio Marchetti del CONI, sanno benissimo di che cosa sto parlando, cioè due mondi apparentemente così diversi, così lontani, come ha accennato Andrea Orlando, al di là delle cinque persone si avvicinano e dove trovano praticamente una sovrapposizione, io dico sempre due facce della stessa medaglia, Agenda 2020 plus 5, Agenda 2030 e tu parli di cosa? Parli di quello che sono l'indispensabilità della sostenibilità, che è una parola che oggi è diventato praticamente un jingle, un mantra, anche se volete abusata, inflazionata, tutti pensano alla sostenibilità magari che è quella ambientale a cui peraltro voi fate riferimento nell'ambito del progetto che poi spesso diventa ecologica, che diventa soprattutto negli ultimi giorni più che mai prepotentemente anche e soprattutto nel nostro paese, ma per altri motivi non dirazziamo troppo dal tema, ma in realtà la sostenibilità, il Comitato Olimpico Internazionale, un mondo che rappresenta anche a livello di Europa di progettualità queste tematiche è tutto, la sostenibilità è ovviamente sociale, questo è logico. Il Ministro ha fatto benissimo a fare una riflessione che negli ultimi tempi più che mai c'è un divario formidabile tra chi si può permettere di fare sport e di chi no in realtà è in condizione di farlo e quindi qui WISP e il mondo degli EPS più che mai possono dare un contributo fondamentale, è verissimo, perché credo che non debba ricordare a voi, a breve presenteremo adesso anche gli ultimi dati di confronto dell'Istat. Mi permetto di dire che fino a prova contraria sono quelli ufficiali, sono quelli certi, non perché le altre rilevazioni o le altre ricerche di mercato o le altre indagini non siano serie, però bisogna anche tener conto alcuni parametri, alcune variabili che magari spesso non sono considerate un po' come i sondaggi per capirci Andrea. C'è un tema ovviamente di sostenibilità economica, perché qualsiasi progetto può essere straordinario, però se non tiene sotto il profilo finanziario, costa troppo o non rende abbastanza quanto sono diciamo i desiderata, le aspettative, onestamente non so se vale la pena applicarlo per carità di Dio, cioè l'incidenza singola rispetto all'utente, all'individuo, in numeri sono anche logicamente degli elementi che si devono tenere presenti. Questo è molto importante, è molto importante perché adesso diciamo sono partito dal particolare e vado al macro. Il macro qual è? Il macro è il nostro paese, il macro siamo questi 60 milioni di abitanti che spesso diciamo io mi diverto a rigirare, a parlare, a toccare eccetera. I 60 milioni abitanti dove sono divisi oggi? Sono divisi direi in due o se volete tre categorie. La prima categoria sono quelli iscritti all'FSN, mal contati 4 milioni di persone, la seconda sono quelli iscritti all'EPS, mal contati sono circa il doppio e il resto sono circa 46 milioni di italiani che, insomma adesso andiamo a vedere l'Istat che dice di questi la metà fanno sport come scendono la mattina, magari come fa Valerio, faccio una battuta, non so se è affiliato all'UISP o la FIDAL eccetera, si mette in calzoncini e fa la sua corsetta, magari per qualche anno sempre di più fa una specie di camminata veloce. E questi qua logicamente rappresentano diciamo una fetta significativa del resto della popolazione. su questi io penso che è indispensabile, doveroso, che uno Stato moderno efficiente che ha diciamo queste tematiche a cuore come ha detto il Ministro eccetera, ci si debba concentrare perché sugli altri sì, insomma sempre si può fare di più, sempre si può fare meglio, però negli altri ci siete ovviamente anche voi atleti di livello del mondo paralimpico, noi siamo una stra eccellenza, siamo i primissimi della classe, in qualche cosa addirittura siamo dei fenomeni, in qualche cosa siamo il decimo posto e sugli altri ovviamente le criticità emergono prepotentemente. E cosa fa riflettere? E concludo sempre per essere pratici. Perché il Ministro Orlando ha fatto benissimo nel dire logicamente ci sono divergenze tra chi se lo può permettere e chi no. È perché qui c'è una contraddizione in termini. E qual è? L'FSN e l'EPS su cosa fondono la loro attività? Cioè questo progetto, voi come riuscite a farlo? Con ovviamente le stratificazioni territoriali, ma con le vostre ASD, che logicamente sono il cuore pulsante del vostro movimento, come d'altronde di qualsiasi altro, sia che parlo di IPS e di FSN. Ma l'ASD, al di là della specificità di un progetto che ci può essere o no, che gli viene calato dall'alto, l'ASD come campa di che cosa vive? Non è cosa sola, della scuola di sport o delle iniziative, fa il torneino, c'è la piccola iscrizione, piuttosto che ovviamente il tesserato che praticamente autofinanzia. E invece se noi vogliamo proprio in qualche modo risolvere quel problema di chi non si può permettere di far sport e non ha la volontà, la testa, a Roma si dice la capoccia, la cultura di mettersi in calzoncini da solo, perché ha dei problemi di depressione, ha dei problemi di lavoro, ha dei problemi familiari, ha dei problemi fisici, ha dei problemi psicologici, eccetera. Quindi ha bisogno di uno stimolo che qualche d'uno logicamente gli alimenta all'interno dell'ASD. Un bravo maestro, un compagno di squadra, una struttura, automaticamente noi dobbiamo mettere in condizione queste società il più possibile di fare il loro, tra virgolette, lavoro, che poi lavoro sui genes, perché siamo tutti terzo settore. Quando una struttura è no profit, per me è tutto terzo settore, dal mio punto di vista, almeno io lo considero tale. E quindi bisogna in qualche modo aiutarli, come? Esattamente con questo tipo di progetti, perché questi mettono in condizione di realizzare comunque qualcuno che non potrebbe fare sport e di avvicinarsi, inclusione, ruolo attivo, senza dover pagare una quota. Concludo. Un'altra riflessione. Lo sport, dove lo fai? Ovunque. Anche questa sala. Levi le sedie, levi questo tavolo, sdrai dei tappetini, sdrai un tatami, metti un ring, metti una pedana per fare scherma, inventi quello che ti pare. Però, diciamo, lo puoi anche fare paradossalmente nelle piazze, lo puoi fare in qualsiasi luogo outdoor, a degli aspetti climatici, fa 40 gradi, non è consigliabile per chi ha 80 anni, forse neanche per chi ne ha 20, però normalmente, scusate, ci dovrebbe essere un luogo dedicato, specificamente attrezzato, omologato in ogni cosa. Magari qui c'hai, scusa se te lo dico, uno spigolo che se fai un movimento ti spacchi la testa, tuo figlio forse lo manderesti a star qui, perché qualcuno dovrebbe certificare l'agibilità di questo posto. Perché lo dico? Perché, proprio perché abbiamo vissuto questo momento di Covid, e su questo io sono il primo che sapete quanto sono stato critico sull'individuazione di chi ha usufruito di questi fondi più unici che rari del PNRR che sono arrivati nel mondo dello sport, sul quale noi non siamo stati minimamente interpellati. Un errore politico mostruoso, ma soprattutto tecnico. Perché se non sappiamo noi cosa fare, visto l'espertise come c'ha lo WISP all'interno degli EPS, allora veramente qui non ci si capisce più nulla. Perché? Perché io non l'ho trovato giusto, l'ho detto pubblicamente, sapete quanto ogni tanto, diciamo, non abbiamo la stessa visione delle cose, che gli enti di promozione sportiva, che anche loro hanno diritto, magari con cifre diverse, magari con criteri di attribuzione diverse, avessero anche loro la possibilità di creare col PNRR un luogo su cui mi riaggancio, ci si potevano fare tanti altri progetti e questo è stato semplicemente un'esclusiva dell'EFSN. Complimenti WISP e grazie.